Dove sono? Perché non ricordo niente. Io sono il suo Medical Interface Liaison Operator. Milo. Sono malata. Nessuna malattia o anomalia rilevata. Non sono malata. Milo sbloccaggio. Al momento è sconsigliato procedere allo sbloccaggio. Milo ti supplico, apri. Non posso soddisfare questa richiesta. C'è qualcuno! Aiutatemi! Attenzione. Livello ossigeno 35%. Forse sono sottoterra. Milo, puoi effettuare una ricerca di DNA? Elizabeth Hansen. Chiamata in entrata. Pronto. Liz, siamo a corto di tempo. Da cosa cominciamo? Tu hai tutte le risposte. Trova il modo di tirare fuori i ricordi. Voi chi siete? Perché mi fate questo? Perché mi fate questo? Troppo tardi. Sono qui. Interruzione. Livello di ossigeno prossimo alla soglia critica. Aiuto! Noi! 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 Grazie a tutti